L'assessore all'istruzione del comune di Pordenone, Flavia Rubino, ha consegnato questa mattina nella sala di rappresentanza dell'ex convento di San Francesco due borse di studio intitolate Amiore Brussa, istituite dal comune nell'anno 2008. Per la sezione destinata agli studenti iscritti al primo anno di un qualsiasi corso di laurea, la borsa di studio è stata conferita a Valentina De Marchi. Invece l'assegno di studio destinato agli studenti iscritti al primo anno di un corso di laurea delle facoltà dell'area scientifica è stata consegnata a Preniqui Bleron. Soddisfazione dell'iniziativa nelle parole dell'assessore comunale Flavia Rubino. Si rinnova anche quest'anno la consegna del borse di studio Amiore Brussa che ci rende particolarmente orgogliosi. Tra l'altro siamo riusciti ad aumentare l'importo da 1000 a 1500 euro, quindi siamo contenti di poter aiutare ragazzi che in un momento difficile si trovano in una situazione complicata dalla crisi economica e sono ragazzi che vengono valutati sul merito e sul reddito. Quindi quest'anno è stata premiata una ragazza del liceo psicopedagogico che si laurerà in biotecnologie e forse addirittura sceglierà di iscriversi a medicina e un ragazzo del Kennedy che si è iscritto all'ingegneria informatica.